Instagram, 1500 ore, esposizione di Mamozzi, perché Liliana ha visto questi Mamozzi e ha detto ma perché non li porti qua? E' purtanto, non eravamo qua. E sei voluto tornare in quella gioia, in quella felicità di una volta, quella felicità che ti distribuivano i cartoni animali, perché tu eri poi dipinto, quindi hai voluto riprendere il genio bambino. Mi sembra un nuovo pubblico adesso, se possiamo... Strunze, ma così da vista. Ah, no, no, scusa, scusa. Ma ragamuccia. Non sei niente, rei.